Indagini a 360 gradi sono state viate dai carabinieri del reparto territoriale di Gela a seguito del decesso di un neonato all'ospedale Vittorio Emanuele, dato alla luce giorni dietro da una donna di nazionalità rumena residente a Mazzarino. Il bimbo pare che si trovasse nella culla immobile all'interno della stanza. Sono stati i sanitari a fare una mala scoperta e ad avvisare subito gli inquirenti. I militari dell'arma hanno raccolto numerose testimonianze per capire cosa è realmente accaduto. Sentita anche la madre. E la polizia di Gela, nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha arrestato Orazio Davide Faraci, 24 anni, destinatario di un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva di 3 anni, 4 mesi e 17 giorni per porto abusivo di armi e spaccio di droga. Manette anche per Fabio Smorta, 40 anni, deve scontare 8 mesi per evasione. Numerose le denunce. La polizia ha fatto luce sulla rissa scoppiata giorni e dietro in un bar stazione di servizio sulla statale per Licata. Segnalato per rissa danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 35enne e per rissa e minaccia la propria moglie di 34 anni. Un ventenne deve rispondere di rissa. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato l'auto di due coniugi nel procinto di allontanarsi dal piazzale e dalla stazione di servizio e l'uomo, soggetto già noto, presentava evidente ferita ancora sanguinante al labbro e al naso. I due hanno riferito di aver avuto una colluttazione con un'altra persona conosciuta che nel frattempo si era allontanata in quanto poco prima presso il Luna Park di Contrada Marchitello aveva cercato di aggredire la donna a causa di vecchi rancori e che alla vista del marito si era dato alla fuga. I tre si sono successivamente rivisti all'interno del bar stazione di servizio ed è scoppiata la colluttazione con il lancio di oggetti, sedie ed altro incuranti della presenza di altri avventori. In tema di denunce, un 45enne è accusato di lesioni personali, un 51enne di violazione degli obblighi all'assistenza familiare. Per ingiuria e minaccia sono state segnalate tre persone di 20, 24 e 28 anni. Un pensionato catanese di 86 anni è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed un giarese di 52 per minaccia. Di lesioni personali devono rispondere un 20enne ed un 53enne. Un 41enne è stato deferito per maltrattamenti in famiglia e minaccia. Per detenzione ai fini dello spazio di droga è stato segnalato un ragazzo di 19 anni. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 18 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza alcolica un 36enne. Una 23enne di Catania è accusata di minaccia e lesioni personali. Atti persecutori è l'accusa per due soggetti di 52 e 46 anni. Un palermitano di 53 anni ed un gelese di 58 devono rispondere di truffa. Denunce anche per inosservanza dei provvedimenti del giudice nei confronti di un 35enne. Per violazioni delle prescrizioni sulla sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per un 29enne. Per detenzione di droga ai fini dello spazio per un 27enne al quale sono stati sequestrati 33 grammi di hashish e 8 di marijuana.